Ok, buongiorno a tutti, benvenuti al primo dei due webinar organizzati dal CREA e dal MIPAF in collaborazione con Ed Agricole e dedicati al progetto Olive Map. Dobbiamo tornare indietro al 2016, al piano olivicolo nazionale, che in quell'anno per far fronte alle criticità del settore individuò alcune attività volte ad aumentare l'efficienza dell'olivicoltura italiana. Questi due webinar riguardano proprio l'attività svolta nell'ambito di questo progetto. Oggi con il primo webinar ci occuperemo del censimento sostanzialmente delle superfici olivicole a livello nazionale, nel webinar dell'8 luglio invece ci concentreremo in più sul quadro conoscitivo della realtà dell'EOQI, cioè delle organizzazioni dei produttori olivicoli. È un progetto questo che possiamo definire di digitalizzazione dell'olivicoltura italiana e quindi costituisce la base informativa necessaria per una corretta gestione del patrimonio olivicolo nazionale. Ma non solo questo, è importante anche sottolineare ad esempio come questo lavoro consenta la raccolta di informazioni ufficiali univoche e questo è un aspetto molto importante. È un sistema, come vedremo poi dagli interventi dei relatori, facilmente aggiornabile, integrabile con altre informazioni, tanto che possiamo considerare i risultati di questo progetto non un punto di arrivo ma al contrario un punto di partenza, proprio in un'ottica di supporto alla programmazione di interventi a livello aziendale e comprensoriale. E tutti sappiamo bene quanto abbiamo bisogno, quanto l'olivicoltura italiana abbia bisogno di riguadagnare competitività, la concorrenza con la Spagna in particolare è sempre più difficile e questi progetti servono anche appunto in un'ottica di programmare quello che è effettivamente necessario per rilanciare il settore. Non voglio dilugarmi oltre perché ci penseranno appunto poi i relatori a spiegare nel dettaglio i progetti. Vi do un'informazione di servizio che è quella di chiedere gentilmente di mettere in muto il microfono in modo che non ci siano appunto rumori esterni quando uno sta parlando e anche da consentire una connessione più snella. Come vedete in basso nel monitor avete a disposizione una chat per chi volesse porre delle domande ai relatori. La scaletta è abbastanza semplice, l'avete vista anche già nel programma per cui avremo una breve introduzione da parte del dottor Pietro Gaspari, dirigente del Ministero delle Politiche Agricole seguito poi da due interventi tra virgolette tecnici del CREA Centro di Ricerche Foreste e Legno nella persona di Pier Maria Corona e Nicola Puletti che ha lavorato insieme poi a Francesco Chianucci e che ci spiegheranno appunto i risultati ottenuti. Abbiamo avuto un discreto numero di registrati, di iscritti oltre 350, quindi questo ci conforta e ci dà un'idea di quanto sia sentito il problema e quindi abbiamo bisogno di informazioni per appunto come dicevo prima ridare competitività al settore. Nomi di lungo oltre, spetta quindi a Pietro Gaspari dirigente del Ministero delle Politiche Agricole a dare via ufficialmente, diciamo così, a questo webinar a rientrodurci al progetto OlipMap per spiegarci come è nato, con quali obiettivi è stato studiato. Dottor Gaspari, a lei la parola. Bene, benissimo, grazie. Buongiorno a tutti. Sono molto contento di partecipare questa mattina a questo webinar che, come diceva prima il dottor Bortolozzi, è il primo di due webinar per illustrare i risultati del progetto OliveMap, che è il progetto che l'acronio vuol dire mappatura e fa bisogno di investimento e minoraggio dell'olivicoltura italiana. Come detto, questa esigenza nasce dal piano olivicolo del 2016, che è stato un piano che è stato condiviso anche dalla conferenza Stato e Regioni, per cui è un'esigenza condivisa non solo a livello governativo, ma anche da tutte le regioni, e che poi è stato, diciamo, declinato dal decreto interministeriale 3048 sempre nel 2016, il quale aveva tra le sue modalità attuative proprio quella di favorire dei programmi di ricerca e sviluppo a livello nazionale, finalizzati alla definizione di modelli produttivi specifici per le diverse olivicolture territoriali, comprese le olive da menza, e per il trasferimento e l'applicazione delle recenti innovazioni e i risultati della ricerca indirizzati all'incremento qualitativo e quantitativo della produzione nazionale. Ovviamente noi abbiamo individuato nel CREA, che è il nostro ente di ricerca, in vigilato dal Ministero con dislocazione anche a livello territoriale nelle diverse regioni, come il soggetto adatto per attuare questo obiettivo previsto dal decreto del 2016 e dal piano olivicolo, il quale poi, l'obiettivo strategico poi del progetto è quello di garantire, come veniva anche detto prima di me, un coordinamento tra i vari dati sul settore olivicolo per cercare di arrivare a avere delle informazioni univoche, confrontarle, integrando appunto le basi dati disponibili utilizzando anche i recenti strumenti che la tecnologia mette a disposizione e ovviamente soprattutto il telerivelamento. In tutto questo per incrementare il livello di dettaglio delle informazioni sull'olivicatura nazionale. Sono molto soddisfatto dei risultati che ho avuto le anticipazioni, ma anche leggendo un articolo che è uscito qualche mese fa su Terra Vita, che già davano informazioni su come si stava svolgendo il progetto e anche sono stato molto soddisfatto dal fatto della collaborazione che c'è stato nell'ambito degli enti chiamati a realizzare il progetto sia nel rapporto con le associazioni dei produttori per quanto importa la tasca che riguardava l'olivicatura dei produttori per individuare le loro criticità e tutte le possibilità di sviluppo che potranno avere per incrementare e sostenere la produzione dell'olivicatura. Sia quella invece che si è avuto a livello diciamo più istituzionale tra il CREA e la GEA con un protocollo di intesa che hanno avuto per condividere le informazioni dei dati soprattutto per il telearrivamento per mettere a sistema tutte le informazioni che erano necessarie per garantire appunto il ragionamento di questi obiettivi. Come è stato detto il progetto si orienta su due task una orientata per la ristrutturazione del settore olivicolo per individuare le criticità e le opportunità e questa è stata pensata andando appunto a verificare il ruolo che le organizzioni dei produttori possono avere in questo settore sono molto importanti noi sappiamo che la prossima PAC avrà ancora più punterà ancora di più sulle OP e pertanto vogliamo però la poliva comunitaria chiede OP diverse nel senso che OP che facciano un'attività che sia al suo segno della produzione ma anche che possano avere una valenza sulla commercializzazione del prodotto l'aggregazione dell'offerta che gli consente veramente di essere a supporto dei produttori per ottenere anche una remunerazione adeguata al prodotto che come dicevamo prima subisce tanta concorrenza anche dal prodotto comunitario che viene a prezzi veramente stracciati per cui valorizzare il prodotto nazionale è una cosa indispensabile per poter garantire un futuro al settore e poi la seconda task invece che riguarda più l'aspetto diciamo della messa a sistema di tutti i dati di tutte le tecnologie con appunto il telerilevamento che ha avuto che poi è stata incentrata è stato fatto un focus sulle tre regioni maggiormente produttive a livello nazionale che sono la Calabria la Puglia e la Sicilia per poter evidenziare le caratteristiche dell'olivoltura territoriale e tutti i vari aspetti e per consentire poi alla fine questo progetto deve servire sia a decisioni politici nazionali ma anche a livello regionale per rendersi conto in tempo reale o quantomeno più possibile mettendo a sistema poi tutti i dati disponibili quali sono le esigenze del settore che poter programmare poi sia gli interventi che saranno possibili alle regioni nazionali ma soprattutto quelli a livello regionale penso ai PSR ai futuri PSR alle possibilità di mirare gli interventi riguardo alle effettive esigenze che emergono dai vari detruttori detto questo io ho fatto sono ad ascoltare anch'io come gli altri i risultati che ci verranno elencati successivamente grazie grazie dottor Gasparri vediamo allora appunto quali sono le prospettive che si aprono grazie a questo lavoro e come questo lavoro si è servito non solo ad aggiornare l'entità delle superfici olivicole ma anche integrandosi con altri dati a ottenere ad esempio delle cartografie tematiche utili appunto per meglio programmare e gestire l'olivicoltura italiana magari dopo poi con il dottor Gasparri torniamo anche su aspetti tra virgolette un po' più politici perché comunque parliamo dell'olivicoltura dicevo appunto vediamo le prospettive soprattutto che si aprono grazie a questo lavoro passo la parola a Pier Maria Corona professore del centro del CREA centro di ricerche foreste e legno grazie grazie anch'io sono molto contento di poter presentare questi che possiamo dire è una base della olivicoltura 2.0 è un primo tassello con importante molto significativo data la sua espansione di carattere nazionale che per creare una banca dati univoca integrata innovativa ma come base per le qualsiasi politica di settore in questa in questa in questa ottica va considerato che l'olivicoltura italiana è si contraddistingue per tante varietà lo conosciamo climi situazioni condizioni condizioni socio-economiche con suetudini anche che hanno portato una grande varietà sul scala nazionale delle diverse tipologie di olivicoltura e per questa questa diversità obbliga ad adottare delle soluzioni specifiche che vadano caso per caso zona per zona senza poter pensare di risolvere i problemi con approcci genericamente omogenei su tutto il territorio nazionale e va a considerare che tuttavia proprio questa diversità che nel nostro paese è stata sempre molto ben descritta anche da un punto di vista qualitativo per alcuni versi aveva delle lagune sotto il profilo quantitativo e quindi c'era bisogno di conoscere meglio in modo concreto appunto con una base tematica aggiornata e rigorosa qual era l'effettiva superficie degli oliveti italiani e anche delle diverse tipologie di oliveti italiani integrati appunto una delle diverse banche dati e questo anche con la possibilità quindi di aggiornare integrare anche i dati statistici forniti dall'Istat dai censimenti generali dell'agricoltura ed è proprio quello che ha questa domanda semplice ma fondamentale di base la base pronta per l'olivicoltura 2.0 di che è stato abbiato questo progetto Olive Map Olip Map nell'ambito del del piano olivicolo nazionale e è un progetto fondamentalmente di servizio un progetto di supporto tecnico ricordo che all'interno del piano olivicolo nazionale crea anche un'ampia attività più di carattere strettamente di ricerca penso ad esempio al completamento del sequenziamento del genoma dell'olivo un progetto particolarmente importante oltre alla caratterizzazione delle olive da mensa all'innovazione di carattere tecnologico questo progetto invece voleva rispondere proprio a una concreta esigenza di carattere operativo nel breve termine e cioè la digitalizzazione e la mappatura delle superficie olivetate in modo da fornire una banca dati univoca di questo settore e come verrà descritto poi dall'intervento che verrà subito dopo la tecnologia di riferimento è una tecnologia ampiamente collaudata è quella del terrierelevamento da piattaforma aerea le ortofoto digitali interpretazione e analisi quantitativa delle ortofoto digitali che però è stata approcciata anche con un sistema anche di carattere innovativo per tanti aspetti particolari che poi verranno descritti che però mi pare qui interessante evidenziare ad esempio l'integrazione con tutto il software messo a disposizione da Google Street View che permette lì dove ci sono delle difficoltà di interpretazione perché talora conosciamo tutti la nostra olivicoltura non è in molti casi e diciamo nella gran parte dei casi un'olivicoltura intensiva ma un'olivicoltura estensiva dove ci sono ad esempio varie specie accanto all'olivo la difficoltà anche di riconoscere certi stadi preforestali da certi oliveti che sono più o meno con una gestione molto molto estensiva allora in molti casi ad esempio è stato molto utile un'integrazione con anche strumenti quali Google Street View che permette di andare a vedere lì dove ci sono olivi anche senza dover fare controlli a terra diretti e che questo è chiaro che le verifiche in campo sono sempre necessarie ma è quantomeno opportuno per ridurre tempi e costi di rilevamento anche poter utilizzare strumenti di questo tipo innovativo un altro aspetto particolarmente importante di cui per certi versi credo che è stato un prodotto concettuale ma fondamentale soprattutto in vista di riferimento per i futuri aggiornamenti della mappatura è una definizione univoca di che cos'è una superficie olivicola e che è chiaro questa avere una definizione rigorosa quantitativamente univoca permetterà poi di fare confronti multitemporali anche confronti tra diverse banche dati senza in generale equivoci o confusioni che talora hanno dato hanno potuto generare appunto una disparità di dati che arrivavano da diverse fonti ovviamente essendo una mappatura su base digitale tutto questo viene implementato all'interno di un sistema informativo territoriale che quindi ha la grande opportunità di potersi integrare con tutte quelle che sono le banche dati su base spaziale su base geografiche che possono essere disponibili a partire dalla semplice modello digitale del terreno che per esempio ci permette di individuare quali sono gli olivetti che sono terrazzati da quelli che non sono terrazzati e quindi possono dare delle indicazioni da un punto di vista di quelle che sono le modalità gestionali e le opportunità e le potenzialità da un punto di vista gestionale sicuramente particolarmente importante in questa ottica è stata la integrazione con il database con la banca dati Sigrian cioè la banca dati delle aree irrigue che permette così di identificare all'interno di quelle che abbiamo detto delle regioni focus tutte quelle che sono le aree potenzialmente eseguite da fornitura idrica che all'attualità alla luce dei dati raccolti rappresentano circa il 17% degli olivetti in Puglia il 12% in Calabria e il 18% in Sicilia ma accanto a queste banche dati è possibile anche ripeto in prospettiva integrare con altre informazioni quelle che possono essere ad esempio le sistemazioni agrarie le tipologie di suolo e così via questo è particolarmente importante su questo ripeto il CREA in tutti i suoi vari centri che si occupano in modo diretto in questo settore in modo diretto ovviamente il centro di ricerca olivicoltura frutticoltura e agroomicoltura che è il centro appunto che porta avanti i tre progetti di ricerca importanti all'interno del piano olivico nazionale compreso quello che riguarda il completamento del sequenzamento del genoma dell'olivo e così come anche il centro politiche e bioeconomia appunto che ha realizzato il database Sigrian questa integrazione permette la derivazione di ulteriori cartografie tematiche di variabili significative proprio ai fini della programmazione e gestione dell'olivicoltura la prospettiva è anche sia ai fini dell'aggiornamento sia ai fini della rilevamento di dati ulteriormente significativi ai fini della gestione è anche la possibilità in relazione a quelli che sono anche il piano nazionale di terrarilevamento di utilizzare anche altri strumenti io non nego che per me una delle prospettive particolarmente interessanti in questo settore sarebbe la possibilità di avere a livello nazionale una copertura di dati LIDAR cioè di un terrarilevamento attivo basato su misure di distanza attraverso impulsi ladder che mi permette di avere una rappresentazione tridimensionale abbiamo la mappatura sappiamo dove sono gli oliveti potessimo avere anche una rappresentazione tridimensionale di questi oliveti sarebbe particolarmente importanti soprattutto in un'ottica di intensificazione della cultura non solamente per una cosa semplice qual è la conta degli alberi degli olivi ma anche per quanto riguarda proprio l'architettura delle chiome la loro spaziatura il loro sviluppo e questo però questa è una prospettiva futura avevamo bisogno di una banca dati di base che è quella che è stata realizzata che riguarda la mappatura sulla quale è possibile costruire anche molto di più di quello che oggi abbiamo grazie a Pier Maria Corona quindi già abbiamo avuto qualche accenno di prospettive che si possono aprire da questa vostra prima parte diciamo così di lavoro per cui anche in questo caso avrei già una domanda insomma da porre ma le lasciamo appunto nello spazio e ricordo a chi vuole di poter formulare delle domande poi inserire nella chat o nello spazio che vedete siglato con Q&A quindi questions and answers domande e risposte a domande per cui se volete formulare domande siete liberi di farlo avremo lo spazio dopo alla fine delle relazioni quindi ecco adesso non ci resta che vedere nel dettaglio grazie a Nicola Puletti i risultati ottenuti è già stato citato Tere Vita che ha parlato in un articolo appunto del progetto Olidmap aggiungo anche che è stato pubblicato un articolo sul numero 1 di olivo e olio all'inizio di quest'anno dove sono stati appunto già riportati alcuni dei risultati ottenuti quindi chi volesse può andare a recuperare l'articolo dalla nostra rivista vediamoli però invece in maniera ancora più completa i risultati ottenuti dal progetto nella presentazione di Nicola Puletti Buongiorno a tutti grazie per questa opportunità di poter descrivere le tappe i prodotti principali di questa task 2 di progetto orientata principalmente allo sviluppo e utilizzo di metodologi tecnologie innovative basate appunto sul telerilevamento per la mappatura di superfici olivetate olivicole nelle tre regioni focus in particolare di progetto che erano Puglia Sicilia e Calabria e anche considerando il contributo introduttivo degli interventi che mi hanno preceduto il mio intervento appunto si concentrerà soprattutto su aspetti di tipo tecnico che dovrebbero introdurre e facilitare la comprensione del contenuto informativo di questi strattati le fasi principali del progetto hanno riguardato un primo step di fornitura dati da parte di AGEA frutto appunto della collaborazione che citava il dottor Gasparri che per il nostro task si è tradotto nella fornitura di ortofoto a 20 e 50 centimetri di risoluzione e pertanto di grande dettaglio geometrico e tematico il secondo step ha previsto l'istituzione di un gruppo di lavoro degli operatori di fotointerpretazione caratterizzato logicamente da un'importante fase preliminare di formazione del personale ed è in questa fase che sono stati realizzati tutti quei criteri per definire che cosa sia una superficie olivetata citati anche dal professor Corona successivamente siamo passati alla creazione di un database geografico quindi di unione tra loro a livello regionale di tutte le ortofoto fornite da AGEA appunto la mole di dati è consistente per cui una fase è stata una fase anche questa molto onerosa e poi alla fase vera e propria di fotointerpretazione delle ortofoto fornite con la produzione degli strati informativi che sono a oggi inseriti nella web app ad accesso libero per alcune superfici olivicole particolarmente difficili da decifrare ed interpretare da ortofoto sono state realizzate specifiche verifiche a terra tramite l'utilizzo principalmente di un di un gps e infine negli ultimi mesi di progetto con il supporto tecnico di una informatica specializzata abbiamo realizzato appunto la web app ad accesso aperto per la consultazione dei dati nelle tre regioni focus che mostrerò alla fine di questa presentazione come detto il primo step è stato quello della fornitura dell'ortofoto da parte di AGEA si tratta di una mole considerevole di dati trattandosi di un database a copertura nazionale di immagini aeree con risoluzione geometrica pari a 50 o 20 cm a seconda della regione a seconda dell'anno riferite però al triennio 2014 2015 2016 in tabella qua a sinistra viene riportata la data di riferimento relativa a ciascuna regione e il dato in Calabria è riferito al 2015 il dato in Puglia in Sicilia all'anno 2016 dal punto di vista dei metodi se vogliamo come già stato anche detto dal professor Corona stiamo parlando di una tecnica ormai molto consolidata molto ben consolidata nell'ambito dei sistemi informativi geografici si tratta semplicemente di scontornare ogni poligono contenente degli alberi olivo la domanda però che dobbiamo porre è se la cosa è veramente così semplice insomma se si può semplicemente rimanere su questo aspetto perché la varietà delle situazioni che si presentano in Italia che ci sono presentate in questo lavoro direbbe proprio che non si tratta di un'operazione semplice abbiamo dovuto infatti innanzitutto chiarirci su cosa intendere per superficie olivicola tra i dati che poi abbiamo integrato al sistema e quindi raccolto c'è anche appunto il database del Sigran relativo ai distretti identi irrigui vedremo poi come è stato integrato e quindi dicevo in mancanza di una definizione esplicita e chiara soprattutto ai fini della fotointerpretazione di superficie olivicola una parte consistente del lavoro che ha preceduto la fotointerpretazione qui vediamo un esempio del prodotto è stata proprio quella di giungere ad una definizione di superficie olivicola e in questa slide ho riportato alcuni esempi che possano aiutare a comprendere la natura del problema questo primo caso è un classico esempio di superficie olivettata tradizionale molto semplice da definire tramite ortofoto si riconoscono bene le chiome si riconosce bene il cesto di impianto che è molto regolare già in questo secondo caso dove si notano delle chiome riferibili ad alberi molto giovani il problema aumenta e la domanda che secondo noi occorre porsi è si tratterà di giovani alberi di olivo si tratterà di olivo o di altre specie per questi ed altri casi abbiamo fatto ricorso a due strumenti principali il primo è lo strato informativo fornito da GEA sulle superficie rivetate condotte e di ulteriore supporto sono state le immagini di google street view di cui riporto qui un esempio devo dire che questo strumento coprendo gran parte della rete stradale nazionale anche non asfaltata si è rivelato veramente utilissimo e ha permesso di ridurre al minimo i controlli in campo che come sappiamo sono molto molto onerosi in questo terzo caso invece quello che si nota è la promiscuità insomma la vicinanza di porzioni di bosco che da un punto di vista anche cromatico sono di non facili distinzione in questi casi il livello di dettaglio fornito dalle ortofoto ha sicuramente giocato un ruolo determinante anche se la scala di lavoro è ovviamente dovuta aumentare da quella standard che con ovvie ripercussioni sui tempi di realizzazione del prodotto e devo dire anche che l'esperienza dei fotointerpreti e quindi anche dei colleghi in termini di conoscenza del contesto territoriale e paesaggistico ha giocato sicuramente un ruolo determinante nel quarto caso si introducono alcuni temi sommariamente da una parte quello della densità cioè del numero di alberi per unità di superficie guardando al solo appezzamento triangolare al centro della figura vediamo una distribuzione degli alberi molto irregolare rispetto al caso 1 per esempio e una numerosità abbastanza contenuta altro tema è quello della superficie minima cartografabile cioè la superficie al di sotto della quale non ha senso produrre disegnare un poligono se prendessimo in considerazione solo questo appezzamento triangolare al centro dell'immagine avrebbe senso siamo andati di parlare di superficie olivico ecco abbiamo definito una storia di 5.000 metri quadri al di sotto della quale non abbiamo cartografato e infine c'è il tema dell'interdistanza tra gli appezzamenti cioè quando tra appezzamenti di olivo l'interdistanza è inferiore a 10 metri abbiamo deciso di accorpare tra loro i poligoni e ricordo qui è importante ricordare che questa fase di mappatura quindi non considera aspetti di carattere catastale legato alla proprietà ma è soltanto una discriminazione di ciò che si riesce a percepire a vedere tramite queste ortofoto parallelamente a questo principio della dimensione minima riferito al caso 4 in questo caso 5 si introduce il principio della larghezza minima dell'appezzamento noi abbiamo deciso ad esempio che un solo filare di olivo di larghezza inferiore a 20 metri non poteva essere considerata superficie olivicola ed infine in questo caso 6 mostra una situazione anche qui di effettiva mescolanza di colture e cosa che ci ha indotto a introdurre il criterio il principio di composizione specifica dell'appezzamento nella slide potete vedere riportata questa tabella con in sintesi i criteri riportati utilizzati quindi superficie minima del poligono che deve essere di 5000 metri quadri una larghezza minima di 20 metri una distanza minima tra poligoni adiacenti di 10 metri eccetera fino ad arrivare alla composizione specifica legata alla copertura in termini di dimensione delle chiome che ci ha servito appunto per definire le superfici olivicole passando ai risultati il primo è evidentemente quello della mappatura in continuo delle superfici olivetate nelle tre regioni Focus Puglia Calabria Sicilia e poi anche nel resto d'Italia si tratta di un lavoro che ha impegnato facendo devo dire delle stime ad occhio ma tendenzialmente a ribasso qualche mese 20-25 mesi uomo quindi 6-7 mesi per tre persone circa nelle regioni Puglia e Sicilia qualche mese in meno nella regione Calabria e oltre 80 mesi uomo per il resto d'Italia quindi le tempistiche principalmente sono legate sia alla superficie regionale evidentemente ma non tanto a questo quanto alla facilità o meno di riuscire a distinguere in modo chiaro il fatto che si trattasse di una cultura di olivo perché spesso volentieri è capitato di trovarsi in situazioni in cui ciò che era apparentemente olivo invece era altra cosa per una valutazione di carattere generale poi diciamo che in questa tabella abbiamo riportato ho riportato i risultati a carattere nazionale spicca ovviamente la Puglia con i suoi 440.000 ettari e seguono la Calabria con 197.000 ettari e la Sicilia 156.000 ettari in termini di confronto con altri database nazionali coevi al nostro ho riportato qui alcuni esempi quindi abbiamo l'ISTAT con 1.142.000 ettari riferito all'anno 2018 AGEA che per l'anno 2016 riporta a livello nazionale 1.000.000 e poco più di ettari IUTI che è un inventario quindi degli usi del suolo basato su un campionamento per punti quindi non si parla di mappatura ma di campionamento puntuale una cifra anche questa sul 1.120.000 ettari e infine con il Corillen Cover che è un progetto europeo che sicuramente molti conosceranno di mappatura degli usi copertura del suolo anche questo che si attesta intorno al 1.200.000 ettari dal confronto quindi emerge abbastanza evidentemente che il 1.200.000 ettari mappati dal progetto LiveMap sono piuttosto in linea con gli altri sistemi e questo ci ha confortato nel produrre il nostro lavoro evidentemente però il livello di dettaglio prodotto dal nostro progetto è superiore perché utilizza appunto immagini innanzitutto si parla di mappature non di indagini statistiche o puntuali e poi le immagini utilizzate le ortofote hanno permesso un livello di dettaglio maggiore guardando le tre regioni focus emerge che il 22% della regione Puglia il 13% della regione Calabria e il 6% della regione Sicilia è interessato da superfici olivicole la maggior parte sono contenute e congruenti con quanto riportato nel database AGEA delle superfici e quindi delle superfici presumibilmente condotte dall'intersezione con il database Sigrian relativo appunto ai distretti denti irrigui le superfici olivetate mappate dal progetto sono potenzialmente servite da fornitura idrica per il 17% in Puglia per il 12% in Calabria e per il 18% in Sicilia mi preme qui sottolineare che quanto mostrato in questa slide rappresenta un esempio tangibile delle potenzialità che possono venire dall'uso e dal progressivo aggiornamento di questo database geografico anche in termini di informazioni per chi pianifica per chi fa pianificazione infine il prodotto più evidente e già accessibile al pubblico è la web app si tratta come vedremo a breve in un video che ho realizzato per non incorrere in problemi di rete visto che si tratta di un prodotto che viaggia sulla rete si tratta appunto di un potente strumento di analisi per unità amministrativa oppure anche per aree specifiche definite dall'utente tramite uno scontornamento a mano dell'area di interesse si accede con un rapido login e vengono permesse elaborazioni geografiche in tempo reale dei dati contenuti restituendo anche statistiche e dati elaborati in forma di query tabellare oltre che di tipo geografico per accedere alla web app la via più semplice è quella appunto di visitare il sito di progetto che è riportato nella slide e a questo punto chiederei alla regia di far partire il video grazie ecco la home page del sito web di progetto all'interno della quale oltre ad informazioni relative al progetto stesso task eccetera c'è una sezione web GIS attraverso la quale si può accedere al servizio web app il link rimanda una pagina di accesso e qui è sufficiente inserire la propria mail senza bisogno di registrazione l'operazione ha il solo fine di enumerare gli accessi al servizio stesso e fare statistiche sul suo utilizzo la web app è strutturata con un corpo principale e una barra laterale esplodendo la quale è possibile visualizzare tre linguette riferite a tre livelli di indagine regionale provinciale utente il livello regionale e provinciale offrono una overview delle tre regioni focus e permette di confrontare in modo diretto i dati delle tre regioni stesse c'è poi una sezione utente attraverso la quale è possibile sia caricare il proprio file KML prodotto per esempio da uno shapefile precedentemente realizzato sia realizzare in real time direttamente a video un poligono di interesse che deve rispondere a caratteristiche dimensionali specifiche e quindi essere superiore a un chilometro quadrato e inferiore a 200 chilometri quadrati una volta calcolate le statistiche del primo poligono è possibile aggiungere un secondo poligono e a tanti altri ancora e realizzare così dei confronti diretti il servizio ospita infine una sezione che permette di svolgere query tabellare in stile pivot attraverso semplici trascinamenti è possibile incrociare informazioni di tipo diverso e ottenere statistiche di base come ad esempio media somma e massimo delle diverse combinazioni bene grazie grazie sono arrivate alcune domande intanto rispondo un'altra informazione di servizio perché qualcuno l'ha chiesto noi possiamo rilasciare l'attestato a chi volesse chiederlo e poi sta a voi insomma chiedere all'ordine degli agronomi i crediti i crediti formativi c'è anche chi chiede pdf degli articoli pubblicati manderemo qui la richiesta del pdf due domande diciamo tra virgolette tecniche una persona chiede se avete usato anche il lavoro fatto per le certificazioni delle DOP o IGP è una domanda rispondo io sì non abbiamo utilizzato per la nostra task non abbiamo utilizzato questo tipo di informazioni per cui no non ci siamo appoggiati su questo ma appunto sui poligoni AGEA delle superfici o le vettate condotte questo è stato lo strato principale su cui ci siamo appoggiati Ok un'altra domanda chiede quali possono essere i possibili rischi dall'esclusione nel database di superfici d'olivo ricadenti nell'esempio 3 cioè oliveti vicini a forest nell'esempio 5 oliveti in lunghe fasce esempio 6 oliveti in consociazione forse queste sono forme di coltivazione meno intensive e con un ruolo importante per la biodiversità forse più dati sarebbero utili per il supporto pubblico PAC in particolare chi vuole rispondere? Posso rispondere io? Non vorrei che fossero stati equivoci non è che non sono state mappate gli oliveti vicino alle foreste il dottor Puletti ha evidenziato alcune situazioni molto facili da foto interpretare che erano il classico oliveto più o meno intensivo da quelle forme per esempio molto diffuse in Calabria in cui l'oliveto si interfaccia direttamente con superfici forestali e dove ci sono appunto delle formazioni preforestali che entrano quasi in alcuni oliveti abbandonati allora in quelle situazioni è stato non è che non sono stati mappati l'oliveto è sempre stato mappato secondo quelle regole di mappatura che sono state definite in relazione proprio alla composizione specifica per quanto riguarda i filari ad esempio di olivo che certamente possono avere un loro interesse da un punto di vista paesaggistico e di confronto nel supporto della biodiversità in termini di corridoie ecologici e quant'altro però teniamo conto di quali sono gli obiettivi del piano olivicolo nazionale i principali obiettivi del piano olivicolo nazionale e in particolare del progetto OliveMap che era come di creare una base per una sostanzialmente una valorizzazione soprattutto in primis ai fini produttivi e lo sforzo interpretativo che sarebbe dovuto essere messo in campo per andare a interpretare e mappare anche singoli filari di olivo che sicuramente da un punto di vista della biodiversità hanno un grande interesse però in questo caso era in qualche modo non proporzionato a quello che era le possibilità economiche e tempistiche del progetto stesso e quindi voglio dire il riferimento comunque teniamo conto che l'unità minima di larghezza è stata 20 metri cioè tutti i filari che nel loro complesso sono due olivi in molti casi già siamo più di 20 metri quindi tutti i filari che hanno una larghezza di più di 20 metri sono stati sono stati mappati sono stati mappati probabilmente molti filari di singolo olivo molti o poche ora non lo sappiamo perché non sono stati mappati ma ecco però voglio dire è una porzione che sotto il profilo poi di quella che è la valorizzazione multifunzionale dell'oliveto oggettivamente ha ricompreso credo la quasi totalità insomma delle situazioni che si trovano sul nostro territorio nazionale Grazie per quanto riguarda le banche dati delle doppie IGP torna a chiedere l'interessato potevano essere trovate maggiori informazioni di dettaglio varietà sesti irrigazioni No ma questo questo però volevo dire questo assolutamente sì questo è interessante ma questo è proprio l'obiettivo di un database di questo genere avendo a disposizione quello che dicevo prima questa è la base dell'olivicoltura 2.0 tutto quello che vogliamo fare da adesso in poi quella che potrà essere come viene fatto in altri settori della nostra agricoltura in modo già molto pregevole pensiamo alla l'olivicoltura tutta quella che può essere anche un'olivicoltura di precisione adesso una banca dati conoscitiva sulla quale può essere appoggiata qualsiasi altra banca dati in modo poi quando si incrociano banche dati non è che le cose sono poi così semplici come può sembrare però ci sono tutte le esperienze tecnologiche e possibilità per procedere in questa direzione assolutamente proprio questo è lo scopo così come ha fatto vedere il dottor Puletti come esempio per il database Sigrian del database Sigrian a me quello che mi interessa non è tanto sapere cioè da un punto di vista nazionale mi interessa sapere che ad esempio in Puglia il 17% è a scopo e rigolo ma quello che mi interesserebbe adesso se io fossi un produttore o un'organizzazione produttoria ho quel territorio lì quel comprensorio specifico lì dove vedo che ho gli oliveti mappati e riportati e che hanno questa certa distribuzione geografica singolo oliveto per singolo oliveto mi rientra dentro l'area rigua ecco adesso questo può essere fatto semplicemente con un click attraverso la banca dati messa a disposizione quindi questo potrà essere fatto questa stessa integrazione sovrapposizione domande informazioni potrà essere fatta con qualsiasi altra banca dati che abbia un supporto digitale e che ovviamente con le dovute modalità di diciamo così tecniche di comparazione e sovrapposizione delle banche dati che possano ovviamente le banche dati si devono parlare ma questo è un problema tecnico in genere facilmente superabile grazie grazie per Maria Corona che torni fuori la questione appunto è un punto di partenza questo non un punto d'arrivo quindi c'è c'è ancora del lavoro sicuramente da fare però era importante partire c'è un'altra domanda specifica l'olivicoltura in siti storici civile tenute eccetera è una tipologia importante nel patrimonio olivico italiano sicuramente rispondente ai requisiti minimi di dimensione sono stati presi in considerazione questi ambiti così importanti per il valore storico culturale produttivo biologico e paesaggistico c'è spazio per introdurli posso dire io per sottolineare diciamo un aspetto che ho già detto in presentazione e cioè il fatto che noi ci siamo occupati di mappare quindi il nostro compito è un po' quello di discriminare ciò che è olivicoltura da ciò che non lo è quindi non abbiamo considerato questioni legate come ho detto in presentazione per esempio alla proprietà quindi anche il catastale per esempio o i siti come viene citato qua di interesse storico sicuramente come già stato detto più volte anche dal professor Corona poco fa si tratta il nostro database è disposto e disponibile ad accogliere diciamo l'integrazione con anche il sistema stesso con tutta una serie di strati informativi che possono anche andare fuori da quello che è diciamo lo scopo principale del progetto che è di tipo appunto produttivo l'interesse principale chiedono se la mappatura verrà estesa ad altre regioni e se sì quali la mappatura l'abbiamo realizzata a livello nazionale quindi abbiamo sostanzialmente ripercorso tutto il territorio nazionale ovviamente essendo le tre regioni focus quelle di maggior interesse in termini anche produttivi il sito web ospita soltanto questo strato informativo io naturalmente dobbiamo un attimo ancora capire il progetto non è finito insomma quando finirà il progetto come potremo uscire con anche la possibilità di rendere disponibili in modo proprio totale questi dati per ora sono disponibili sul sito web come presentato prima Qual è il valore aggiunto rispetto alle altre poche dati avete pensato a un sistema di aggiornamento costante la banca dati è nuova ma sembra essere creata sulla base di dati vecchi questa era una domanda che avrei voluto formulare anch'io nel senso che mi siete riferiti al triennio 2014-2016 soprattutto e magari in certi contesti la situazione potrebbe essere cambiata non so se Corona vuole rispondere a lui due cose intanto volevo ribadire che la mappatura è stata fatta su tutta Italia come è stato presentato dai dati e quindi la mappatura è stata fatta con le stesse caratteristiche di dettaglio e con la stessa accuratezza non solamente sulle tre regioni focus ma su tutto il nostro paese nel database del web GIS disponibile online sono rappresentate per ora solo le tre regioni focus anche considerata la mole di dati che devono essere lavorati dal web GIS per quanto riguarda intanto va detto è chiaro che le immagini tele rilevate hanno sempre una certa non sono ad oggi le immagini nel senso soprattutto questo tipo di immagini tele rilevate ricordo che sono immagini derivanti da piattaforme aeree quindi questo ha voluto dire che ci sono stati degli aerei che in quegli anni hanno sorvolato tutto il nostro paese dopo c'è stato un certo periodo che è servito per diciamo così processare tutte quelle immagini e renderle disponibili certamente quando nell'ottica di tutto il lavoro anche che viene fatto dal nostro paese di ripercorrenza nel tempo delle superfici agricole anche forestali con immagini tele rilevate da piattaforma aerea il processo potrà essere assolutamente ripetuto e con lo stesso grado di dettaglio attraverso piattaforme diciamo così attraverso immagini da piattaforme aeree che richiedono che ovviamente l'aggiornamento richiederà un tempo inferiore a quello che è stata la prima mappatura questo è evidente che sarà per certi versi facilitato da avere già disponibile questo database di fatto questo è il lavoro un aggiornamento ad hoc è in corso viene fatto perché all'interno di questo progetto stiamo facendo un aggiornamento ad hoc considerate le problematiche coinvolte per quanto riguarda la regione Puglia considerate le tematiche che conosciamo tutti e quindi verrà fatto un aggiornamento agli anni più recenti altre possibilità in tempo reale ci possono anche essere pensiamo a quelle che sono tutte le disponibilità di immagini e sempre maggiori disponibilità di immagini da piattaforme satellitari però teniamo conto che in questo caso le possibilità sono significativi importanti ma non danno quel grado di accuratezza e di finezza e di dettaglio geometrico che può essere permesso dalle attuali modalità di piattaforme da aereo o per talune zone da drone ma insomma piattaforme aeree per una scala nazionale penso ad esempio a tutte quelle che sono le possibilità assolutamente importanti del programma europeo Copernicus che è molto supportato anche dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ma anche il programma Copernicus diciamo così fa riferimento a diciamo a quella costellazione di satelliti Sentinel nei quali abbiamo una risoluzione geometrica a terra nominale che è intorno ai 10 metri e che per certi versi se ha grandi vantaggi per alcuni aspetti soprattutto per quello che riguarda la risoluzione spettrale cioè si possono cogliere diversi aspetti diciamo così della coltivazione da un punto di vista geometrico può ha oggettivamente oggettivamente dei limiti questo questo va detto però però questo però tutto questo sono strumenti come dicevo anche prima gli strumenti le tecniche leader sono strumenti che si giusta pongono a questa base di dati per un aggiornamento diciamo così con con lo stesso dettaglio di carattere geometrico la stessa accuratezza dal punto di vista rigorosamente spaziale e certamente diciamo così la possibilità le potenzialità che danno oggi ancora oggi le ortofoto digitali quali quelle che sono state utilizzate in questo progetto non sono ecco così facilmente rimpiazzabili Bene stanno aumentando le domande quindi mi chiedo magari risposte più sintetiche ce n'è una che politica che lascio in fondo per il dottor Gasparri quest'ultimo comunque è stato risposto perché non utilizzare i satelliti mi sembra che Corona abbia già spiegato altra domanda dice trovo Olipmap uno strumento molto interessante per metodologia e approccio sicuramente ci sono alcune situazioni da tarare noto che ci sono alcuni oliveti giovani 4-5 anni di impianto che ancora non sono censiti sarebbe interessante integrarle con mappe forestale zone SIC Natura 2000 zona a rischio Nidrati quali saranno le prospettive del progetto a termine della sua conclusione avete previsto la sovrapposizione con evidenza di oliveti biologici Puletti non so se sei sempre tu sulla prosecuzione del progetto faccio fatica a rispondere nel senso che il progetto noi oggi presentiamo i risultati di questa prima di questa prima fase quindi insomma evidentemente da parte nostra c'è tutto l'interesse anche la disponibilità a collaborare ulteriormente ma una domanda specifica su come proseguirà non credo che sia da rivolgere a me principalmente Ripeto il confronto voglio dire il confronto entrando proprio nel dettaglio di quello che viene chiesto il confronto degli oliveti in aree SIC è automatico sono dei poligoni basta sovrapporre i poligoni che sono disponibili presso il ministero dell'ambiente in forma shape file delle aree SIC quindi delle aree della rete Natura 2000 così come di tutte le aree a parco con un clic si può calcolare quanti sono gli oliveti che sono dentro i parchi o che sono dentro quel determinato parco o quel determinato SIC o quella determinata ZPS questo assolutamente è semplice per quanto riguarda gli altri aspetti sono approfondimenti che non fanno parte adesso di questo task di progetto che ripeto era la costituzione di una banca dati ma che è una banca dati che ovviamente può essere arricchita leggevo appunto agricoltura biologica può essere arricchita di tutte le altre informazioni che via via si ritenesse necessario poter avere ecco mi scusate un agrotecnico chiede qual è il sito web per accedere pubblicamente nella presentazione di Puletti mi sembra che sia stato spiegato comunque se lo vuole ribadire deve impiantare un nuovo impianto di oliveto a 6x6x5,4 metri come inserire il nuovo impianto in database e se può accedere ai contributi ok allora se può essere d'aiuto posso copiare e incollare il link al sito del progetto in modo tale che come ho fatto vedere nella presentazione da lì è possibile accedere poi alla web app come ho detto non c'è nel video non c'è bisogno di fare registrazione ma l'email serve per noi per avere un controllo anche degli accessi in parallelo quindi è più una questione informatica che non di appunto privacy registrazione eccetera eccetera e per quanto riguarda la questione di impiantare un nuovo impianto di oliveto a 6x6x5 metri si può sicuramente inserire come ho fatto vedere a mano la dimensione cioè la porzione all'interno del database deve essere una porzione superiore al chilometro quadrato quindi mi viene da pensare che non può essere perché di fatto il database permette allo stato attuale delle cose così come è sul web GIS di estrapolare delle informazioni che soprattutto sono orientate alla pianificazione territoriale quindi per un dettaglio così spinto serve un attimo un qualcosa di diverso bene altra domanda si potrebbe pensare di coinvolgere anche gli olivicoltori e i cittadini attraverso progetti di citizen science per tracciare gli appezzamenti inaccessibili sì devo dire che la questione è molto centrata su proprio un'attività che stavamo proprio pensando di mettere in campo già ora con gli eventi che si sono succeduti non dipendenti dalla nostra volontà purtroppo però ecco l'idea sicuramente immediatamente successiva alla fine della mappatura è stata proprio quella di porci la domanda come aggiornare appunto questa data base a date più crescenti e soprattutto come poter sfruttare tutta quella mole di informazioni che può venire per esempio dalla cittadinanza appunto quindi sia attraverso progetti di citizen science che appunto anche poi di interazione tramite app per esempio da parte dei diversi utenti anche degli olivicoltori stessi insomma Il Joint Research Center sta lavorando sull'uso dell'intelligenza artificiale per la mappatura utilizzando Copernicus che ha citato prima il professor Corona avete programmato collaborazioni in forma di scambi di ricerca apprendistati eccetera sul tema della olivicoltura no di fatto noi su questo tema proprio dell'utilizzo ad esempio del diciamo così tutte le tecniche di deep learning dell'azione Sentinel abbiamo grossi rapporti di carattere europeo e ci stiamo attrezzando e abbiamo già avuto dei prodotti importanti su un altro settore che è quello della pioppicoltura potrà essere un interesse futuro certamente di ricerca però è più facile la pioppicoltura dell'olivicoltura questo mi permette di dire un pochettino più facile e sicuramente questo è un tema di ricerca aperto e interessante bisogna essere però anche molto secondo me seri ad oggi non ci sono a quello che è la nostra esperienza anche di ricerca questo lavoro è stato fatto all'interno del centro che dirigo proprio perché nel nostro centro c'è un laboratorio di geomatica di cui appunto è responsabile il dottor Puletti insieme con il dottor Chianucci e il dottor Chiavetta e allo stato attuale però voglio dire siamo ancora in una fase di test e di cioè che non è non siamo ai livelli di accuratezza che ci può assicurare il lavoro fatto di carattere classico tradizionale quello che è stato fatto appunto per il progetto OliveMap quindi direi ancora un aspetto futuribile però sicuramente è una pista di ricerca particolarmente interessante Altra domanda l'aggiornamento coprirà quindi le annate dal 2017 a oggi la mappatura consentirà anche di mirare gli interventi sulle piante con cimazioni irrigazioni per gestire al meglio le risorse non so dottor Puletti se provo a rispondere sempre io non vorrei essere eccessivo allora la mappatura abbiamo detto noi l'aggiornamento lo predisponiamo per la regione Puglia perché questo è un po' all'interno del progetto quello sicuramente ci sarà un aggiornamento con le immagini più recenti possibili sempre immagini ortofoto digitali per quanto riguarda poi tutte quelle che sono le applicazioni dell'agricoltura di precisione ripeto questo è un database di mappatura sul quale ad esempio se incrociato con database dei tipi di suolo con database dell'irrigazione con altre banche dati può permettere di arrivare a quelle questioni di carattere tecnico operativo strettamente aziendale a cui fanno riferimento queste domande chiedono anche se ma in parte avete già risposto la sovrapposizione delle diverse banche dati potrebbe fornire informazioni più accurate sicuramente sì molto semplicemente sì nel senso che questo come è già stato ripetuto più volte insomma è un punto di partenza e la possibilità di sovrapporre al nostro strato informativo tutta una serie di altri strati è evidente mi sembra evidente che migliori anche per il per il gestore pubblico la possibilità di ottenere informazioni più di dettaglio ecco di pianificare con maggior dettaglio un altro agrotecnico che si occupa oltre del biologico anche della certificazione dopo IGP chiede se la mappatura vale anche per le cultivar cioè il numero varietale su appezzamento allora la risposta sintetica è no nel senso che noi abbiamo prodotto una mappatura già come ho fatto vedere in alcuni esempi non ve li ho fatto vedere tutti evidentemente facevamo notte ma il caso per esempio anche di specie diverse faccio per dire in Sicilia se non ricordo male il fico d'India dal punto di vista spettrale anche del del suo pattern spaziale di arrangiamento di arrangiamento spaziale era molto facilmente confondibile con l'uricoltura quindi già è stato complicato distinguere ciò che è olivo da ciò che non lo è questo proprio per ridurre poi al minimo i rilievi di terra che sono sul livello anche se semplicemente rimanendo alle tre regioni focus insomma sono molto onerosi come potete immaginare e quindi arrivare al dettaglio della cultivar o del del numero varietale su appezzamento era veramente diciamo non era il focus del progetto ecco diciamolo così ci sono ancora due domande di carattere siamo politico che lascio che giro poi al dottor Gasparri volevo chiedere una cosa io se a livello europeo altri paesi Spagna in primis hanno fatto hanno svolto un lavoro del genere c'è qualche altro paese che ha svolto un lavoro come questo possiamo dire che magari l'Italia è uno dei se non il primo uno dei primi paesi ad avere messo in pista un progetto del genere non so se il professor Pisante magari anche lui può intervenire se sapete qualcosa a riguardo vi risulta che qualche paese non vi risulta che altri paesi abbiano fatto un progetto del genere di censimento Buongiorno a tutti questo progetto a scala nazionale non ha esempi analoghi negli altri paesi del Mediterraneo e come è stato più volte detto rappresenta un database di partenza per l'inventario con quelle caratteristiche identificate per uniformare chiaramente le informazioni tutte le domande sono estremamente interessanti e valorizzano i risultati di questo progetto come strumento di programmazione a scala regionale anche per delle regioni nuove dove il cambiamento climatico sta introducendo gradualmente anche l'olivicoltura ad esempio il Piemonte è evidente che in alcune regioni questo strumento potrà rappresentare una base di programmazione per interventi mirati per esempio sull'utilizzo della risorsa idrica ma anche per valorizzare gli usi plurimi dell'olivicoltura che sono chiaramente i servizi ecosistemici come il paesaggio olivicolo ma anche per quanto riguarda la capacità e la quantità di sequestro di carbonio atmosferico ma non solo anche la capacità di resilienza riguardo agli eventi climatici sempre più diciamo estremi a cui il cambiamento climatico ci sta sottoponendo per cui è un panorama di output a cui il progetto punta e su cui sicuramente la rete Copernicus con la costellazione dei satelliti Sentinel potrà avere una stretta correlazione per un aggiornamento che può essere addirittura quotidiano quindi io non mi preoccuperei oggi dell'aggiornamento del progetto quanto dell'Interlink che può avere con tutte queste banche dati satellitari e che appunto come detto da Corona potranno far evolvere l'olivicoltura italiana da una fase 2.0 ci auguriamo a una fase 4.0 per quanto riguarda le DOP o il bio questo è un altro strumento importante per cercare di radicare le informazioni sui diversi territori e quindi passare da una informazione empirica o su database numerici su database geolocalizzati e cartografati quindi questo è un passaggio ulteriore che non deve essere visto solamente come uno strumento di controllo ma come uno strumento di gestione di un'olivicoltura che per essere competitiva deve essere innovativa valorizzando anche le diverse olivicolture dei territori quindi non esiste un'olivicoltura italiana ma esistono tante olivicolture che questi strumenti possono non solo mettere in evidenza ma soprattutto valorizzare sotto il profilo economico grazie professore vediamo due domande di carattere tra virgolette politico segnalo solo un'aggiunta di un commento che dice che le difficoltà maggiori si hanno con oliveti e agrumeti in consociazione anche per la tipologia degli impianti in aree in rigui penso che concordiate su questo confermo confermo l'aspetto politico è c'è un commento che dice spero che il piano olivicolo italiano vada oltre gli obiettivi della produttività dottor gasparri perché è proprio a causa di questa visione mio perché il settore sta crollando e spero che questo valga anche per la pacca poi ce n'è una invece un po' più mirata sul piemonte gliela faccio dopo se intanto vuole commentare allora il piano olivicolo italiano contiene tante misure l'incremento della produttività è una ma come dicevo all'inizio contiene anche la promozione del prodotto di qualità nazionale e contiene anche una misura che riguarda l'ingegneria finanziaria cioè interventi a sostegno delle organizzioni produttori o delle associazioni di organizzioni produttori per dargli la liquidità necessaria per poter aggregare l'offerta cioè acquistare il prodotto e poi metterlo sul mercato con volume e con masse che possono garantire di ottenere dei prezzi più alti o superiori e soprattutto possono garantire presso l'acquirente dei volumi costanti che sono proprio quelli che servono per poi garantire una continuità del collocamento del prodotto certo la parte produttiva è una parte che comunque noi abbiamo sempre avuto nel nostro paese sia perché l'olivicoltura per livello proprio agronomico ha delle fasi di alternanza produttiva dovute proprio all'attività di carico e scarico della pianta a quali si sono aggiunti in maniera quasi costante negli ultimi anni situazioni di criticità dovute a problemi di natura ambientale siccità gelate alluvioni e poi in alcune zone anche di natura fitosanitaria non solo la xylella ma soprattutto la xylella ovviamente questa noi siamo un paese produttore ma anche molto altamente consumatore consumiamo molto di più di quello che storicamente avevamo sempre prodotto perché abbiamo una industria di trasformazione molto brillante che poi dopo vende il prodotto in tutto il mondo il fatto la mancata produzione nazionale viene coperta dal prodotto comunitario principalmente ma adesso anche non extra comunitario noi dobbiamo cercare di rendere i nostri olivicoltori in grado di garantire il tentativo era di garantire una costanza di produzione ma nello stesso tempo favorire lo sviluppo del prodotto di qualità soltanto che le nostre doppie GP non è che poi occupano una percentuale così elevata sul totale del prodotto nazionale intorno al 4-5% tutto il resto è olio indifferenziato per questo è una proporzione importante ma comunque bisogna anche garantire certi volumi perché altrimenti se non si hanno i volumi è difficile poi competere e collocare il prodotto in maniera soddisfacente per gli olivicoltori sono delle cose che vanno di pari passo promuovere il prodotto di qualità favorire la capacità delle organizzioni di produttori nel regolare il mercato di acquisire il prodotto ma allo stesso tempo aumentare quella produttura soprattutto noi abbiamo delle zone d'Italia in cui abbiamo degli oliveti bellissimi da un punto di vista paesaggistico magari molto anziani ma poco produttivi altre zone come diceva prima il professor Pisante invece favorire l'olivicoltura moderna più produttiva in alcune zone lasciando sempre la parte paesaggistica sono due lealture diverse vanno mantenute entrambi però il fatto di poter avere prodotto quantitativo costante che possa poi essere valorizzato dai marchi di qualità è senz'altro uno dei pochi sistemi per poter far competere la nostra olivicoltura che ha dei costi di produzione veramente superiori agli altri paesi ma per dire con la Spagna siamo con superfici enormi tutte meccanizzate con pochissime cultive con una produzione abbastanza regolare l'anno scorso hanno prodotto quest'anno stanno producendo ancora di più dell'anno scorso e hanno stoccato tanto prodotto come facciamo a poter sollevare i nostri agricoltori è soltanto portando sull'aumento del prodotto di qualità che venga però collocata a un prezzo che rimunde di questa qualità perché la qualità costa la qualità bisogna pagarla per cui per poter convincere il consumatore a pagare bisogna promuovere il prodotto farglielo conoscere e noi stiamo facendo con Ismea delle compagnie a favore dell'extravergione italiana sono tutte attività che si intersecano una con l'altra del cannone olivicolo e poi dopo insomma noi ci auguriamo che possa avere un successo sicuramente poi ci vuole anche il sostegno delle associazioni produttori degli olivicoltori stessi dei tecnici per quanto riguarda il Piemonte leggevo la domanda visto la domanda perfetto ha risposto già il professor Pisante ovviamente gli interventi di formazione per gli olivicoltori in zone che si stanno affacciando adesso alla produzione sono interventi che possono essere previsti sia dalle regioni come giustamente ha detto il professor Pisante nell'ambito dei programmi comunitari ma anche utilizzando lo strumento che dà lo CM l'articolo 29 per i programmi comunitari a favore dell'organizzazione di produttori che appunto hanno anche questo ruolo di divulgare formare e fare assistenza tecnica nei confronti dei loro associati per cui diciamo attualmente questo ruolo può essere senza altro coperto da queste due situazioni cioè regioni e programmi comunitari vedo che c'è sempre a livello politico c'è qualcuno che vi riporta all'untano 1980 quando c'era il piano olivicolo nazionale predisposto dalla loro al Ministero dell'Agricoltura in contemporanea con l'implementazione dello schedario olivicolo nazionale qualcuno si ricorda di questa cosa chiede l'interlocutore lo ricordo perché prima di essere al Ministero ho lavorato proprio allo schedario olivico a fare il rilevatore sul territorio me lo ricordo è vero quello è servito per definire la situazione in quel periodo in questi anni come è stato detto tante cose sono cambiate ma anche tante cose sono rimaste uguali in alcune regioni per cui è stato necessario comunque questo lavoro di aggiornamento come ripeto sulle banche dati per avere cognizione del materiale che abbiamo adesso con tutte le possibilità di aggiornamento che abbiamo sentito e sono consentite dal progetto Allora si è adesso aperto un po' il dibattito politico la domanda dice era quella di riconoscere il ruolo multifunzionale dell'olivicoltura in termini di biodiversità agricoltura sociale eccetera se non investiamo indirizziamo i pagamenti della PAC verso l'olivicoltura biologica sociale tradizionale temo che saremo schiacciati dai mercati internazionali da anni le organizzazioni dei produttori lavorano sulla tracciabilità certificata ai sensi della norma 22.005 con grandi sforzi e investimenti quindi una certificazione di origine questo prodotto non è premiato dal mercato ma di fatto si affianca allo strumento del WGP incrementando perché non si parla mai di questa certificazione di questo ne parleremo nel secondo seminario dell'8 luglio quindi tutti gli interessati sono invitati a partecipare perché avremo modo anche di dare delle spiegazioni anche su queste sovrapposizioni dei processi di certificazione a fronte di quote di mercato estremamente risibili Perfetto quindi rimandiamo all'8 luglio c'è spazio l'ultima domanda tra virgolette tecnica poi passiamo alle conclusioni avete intenzione di rendere disponibili i dati in WMS cioè non solamente tramite la web app Puletti Sì diciamo che sulla disponibilità dei dati c'è da ragionare un attimo appunto con il ministero perché noi siamo produttori fornitori di un prodotto e quindi sulla sua pubblicizzazione sulla sua diffusione non siamo noi proprietari per cui non possiamo dobbiamo definire ancora il progetto ha un annetto a concludersi in modo formale e quindi in questo annetto sicuramente definiremo anche le regole per uscire fuori dalla web app e rendere disponibile il più possibile questo dato però non aspetta a me rispondere questa era la questione c'è entrata un'ultimissima domanda un olivetto in zona in Toscana dove le condizioni di lavoro sono abbastanza proibitive con conseguente lievitazione dei costi di manutenzione e gestione dell'area ho sentito che parlavate di servizi ecosistemici di preciso di cosa si tratta e come si potrebbe accedere a tali incentivi ma innanzitutto per i servizi ecosistemici sono le regioni che nell'ambito dei piani di sviluppo rurale devono identificare degli indicatori di risultato la nuova programmazione dedica a tutte le misure agroclimatico ambientali almeno il 40% del secondo pilastro della PAC l'olivicoltura può erogare fornire servizi ecosistemici a vantaggio della collettività e la regione che deve innanzitutto identificare qual è il database quindi la baseline di partenza e puntare l'obiettivo incrementale nel periodo di sette anni di una programmazione per cui a mio avviso proprio per il ruolo che svolge l'olivicoltura in alcuni territori del nostro paese è possibile identificare sia servizi ecosistemici riguardanti il paesaggio ma anche il consolidamento dei versanti e il ruolo che svolge l'olivicoltura proprio per ridurre i fenomeni erosivi e i processi anche di movimenti di massa che possono arrecare danni alle infrastrutture strade ponti diche e quindi a tutte le attività che l'olivicoltura può avere una remunerazione per i produttori che si attengono a determinati modelli di gestione benissimo grazie professor Pisante al quale poi lascio di nuovo la parola perché direi di andare alle conclusioni insieme alla professoressa Gentile abbiamo risposto a tantissime domande veramente quindi ringrazio per la partecipazione ci sono ancora vedo anche qualche altra domanda sempre un po' a sfondo politico per cui consiglio di seguire anche il webinar dell'8 luglio quando avremo modo di trattare più gli aspetti politici dell'olivicoltura che non questi un po' di tecnologici digitali professor Pisante professoressa Gentile chi vuole cominciare dei due a voi la parola comincio io Michele bene buongiorno a tutti non posso che essere molto soddisfatta di quello che è stato oggi l'incontro per tanti motivi perché come il professore Pisante l'abbiamo seguito dall'inizio perché ritengo che mentre il professore Colonna dice questo è un progetto che è stato a supporto che sarà a supporto ha utilizzato il termine un progetto di servizio di supporto tecnico io ritengo che questo sia veramente la base per far partire da qui e da questi dati una serie di progettualità un'intensa attività anche di ricerca per poter dare spinta e poter dare quella impulso alla nostra olivicoltura che come diceva Michele è la le diverse olivicolture ognuna caratterizzata da condizioni orografiche condizioni sociali condizioni culturali e culturali assolutamente diverse ma che certamente rientrano in tre grandi modelli che sono il modello tradizionale l'intensivo e il superintensivo laddove c'è laddove è partito laddove di fatto c'è già un po' di sperimentazione allora mi chiedo e chiedo anche per rispondere a quella questione dell'aumento della competitività la Spagna va come il vento la Spagna continua a crescere la Spagna ha investito e ha innovato i suoi sistemi olivicoli nell'ultimo ventennio in maniera significativa allora probabilmente con i dati di questo lavoro fatto appunto nell'ambito del progetto Olivimap forse si potrebbe sulla base della densità di impianto sulla copertura del suolo cercare di capire quanto è questo rinnovamento che è avvenuto in olivicoltura nell'ultimo periodo e con la fotografia che abbiamo al 2016 e capire quant'è questo modello superintensivo se c'è quant'è il modello tradizionale quant'è il modello intensivo sì è vero dal numero di piante vendute possiamo avere una stima di questo però sarebbe importante anche per poterlo mettere a servizio di produttori e poter fare anche un'attività di divulgazione perché l'innovazione certamente passa da questa informazione dalla conoscenza di questi dati ma i dati poi vanno trasferiti vanno resi pubblici vanno condivisi e l'evento che stiamo facendo oggi è un evento di grande condivisione dei risultati di un progetto importante l'altra cosa che volevo segnalare è che come dire queste diverse olivicolture oggi il termine della biodiversità è venuto in bocca diversi in maniera importante lo sottolineo lo sottolineo perché questa olivicoltura che forse non è poi tanto redditizia forse non è molto competitiva però rappresenta un bacino di agrobiodiversità molto importante all'interno della quale è stato possibile anche individuare dei vecchi materiali delle varietà non tanto idonee per alcune cose salvo poi sperimentarle che però sono fonti di resistenza genetica anche ad alcuni patogeni particolarmente importanti e quindi da questo punto di vista ritengo che sia fondamentale salvaguardarla e tutelarla per tanti motivi infine chiudo il modello che oggi è stato presentato è un modello importante valido che ha manifestato la sua potenza in questa presentazione che ripeto era nato come uno strumento a supporto di servizio ma che ripeto diventa secondo me fondamentale per tutta una serie di ulteriori passaggi inclusi quelli legati alla ricerca alla ricerca applicata allora mi chiedo questo stesso modello potrebbe essere replicato ed applicato per altre culture faccio un esempio uno per tutte prima avete discusso abbiamo discusso in una delle regioni focus la Sicilia che mi riguarda personalmente e che conosco molto bene certamente olivo e ficodimia direi di più olivo e agrumi chiome sempre verdi molto difficili a volte di riconoscere cose l'una e l'altra agrumicoltura nuovo patogeno emergente arriva dall'Europa che si chiama greening one globe vorrei che l'Italia il ministero ci sta supportando sta supportando questo progetto europeo fosse pronta eventualmente ad avere una zona di tutela anche attraverso la mappatura delle aree agrumicole in Italia dove queste sono poste affinché i controlli possano essere sempre più forti sempre più presenti e si possano evitare eventuali ingressi ed eventuali possibilità di diffusione di patogeni che poi sono distruttivi e che non lascerebbero niente anche questo è un batterio niente dell'agrumicoltura italiana quindi ritengo che il modello è un modello potente è uno strumento potente che probabilmente potrebbe anche essere penso all'agrumicoltura penso alla viticoltura potrebbe anche essere replicato per altre culture importanti del nostro MyDimiter grazie grazie professoressa Gentile professor Pisante in chiusura dunque innanzitutto io ritengo che l'aspetto più importante di questo progetto così come oggi è stato illustrato non in modo conclusivo ma ancora intermedio era per rendere all'opinione di tutti i portatori di interesse di un metodo di lavoro nuovo e che questo alla luce anche della nuova programmazione comunitaria rappresenta un elevato grado di innovazione perché per la prima volta per il più importante sistema culturale italiano disponiamo di dati su supporti digitali quindi questa è una base di partenza tutte le programmazioni e le declinazioni che l'olivicoltura richiederà nell'immediato futuro chiaramente richiedono un'attività di ricerca continua quindi anche rispetto alla domanda di quello che è avvenuto negli anni 80 con interventi che erano sempre distinti qui abbiamo trovato una sintesi anche con i dati di riferimento del ministero che sono appunto quelli di AGEA e noi proprio sotto questo punto di vista riteniamo che l'integrazione di questi dati insieme a quelli di Stigrian rappresentino il principale patrimonio per poter programmare in modo consapevole nei diversi territori gli interventi ma è chiaro che la ricerca non si ferma qui anzi uno degli output di questo progetto e così come è stato messo in luce benissimo dai colleghi precedentemente è che l'avvento dell'utilizzo di immagini satellitari richiedono la costituzione di librerie cioè di librerie di risposte spettrali delle diverse specie di interesse agricolo e anche alimentare anche per poter assolvere a pieno a questo nuovo programma europeo from farm to fork su cui tutti spendono grandi plausi ma nessuno effettivamente si rende conto delle informazioni e delle competenze necessarie per poter gestire questi grandi cambiamenti epocali per cui ritengo che anche con il seminario dell'otto in modo complementare a questo daremo uno spaccato importante dell'olivicoltura e su questo speriamo anche di poter programmare interventi gestionali che possano soprattutto negli anni di carica proteggere le nostre produzioni olivicole in tutti i territori ed evitare che ancora nel 2020 magari la mosca porti via una parte della produzione o una parte di quella qualità della produzione che poi non ci fa competere sui mercati mondiali avendo dei player importanti ad iniziare dalla Spagna ma non solo che chiaramente hanno innovato anche in questi processi di monitoraggio e gestione localizzata degli interventi riducendo l'utilizzo della chimica per cui noi vogliamo un'agricoltura naturale ma un'agricoltura che faccia molto ricorso alla conoscenza e questa conoscenza parte proprio da un inventario sistematico che Olimap oggi rappresenta in questa forma per cui ritengo che il link che chiaramente Terra e Vita o Libero Olio creano anche per il futuro possa rappresentare anche un feedback continuo con i portatori di interesse perché questo progetto ha bisogno anche dell'apporto degli utenti e per cui ci auguriamo che dopo questa fase di limitazione ci possa essere anche l'occasione per un evento che non sia in un'aula o in un cinema per mantenere le distanze ma in un bello livello di nuova programmazione quindi anche con la partecipazione delle regioni che ne vorranno fare un utilizzo razionale grazie a tutti per l'attenzione grazie grazie professor Pisante grazie a tutti i relatori grazie a chi ha seguito questo webinar e lo ha reso particolarmente partecipato con molte domande noi cercheremo di rispondere anche a tutte le richieste di attestati degli articoli citati in pdf possibilmente vediamo anche delle presentazioni di questo webinar chiuderei ovviamente all'appuntamento dell'8 luglio alle ore 11 avrete insomma sui nostri canali tutte le informazioni dettagliate sul programma anche se vi è stato anticipato di che cosa parleremo concluderei semplicemente sottolineando anche una cosa che è saltata all'occhio per quanto mi riguarda cioè vedere veramente da stretto contatto per una volta gli enti di ricerca e la politica credo sia anche il modo migliore per sfruttare poi nella maniera ottimale le risorse che saranno messe a disposizione dalla politica in modo da fare poi una programmazione efficace ed efficiente a supporto dell'olivicoltura italiana ringrazio ancora quindi nuovamente i partecipanti i relatori vi aspettiamo l'8 luglio alle ore 11 per il prossimo webinar sulla realtà delle OP olivicoli buona giornata a tutti e grazie ancora arrivederci grazie buongiorno arrivederci arrivederci a tutti arrivederci a tutti grazie grazie